Oggi scopriremo come visualizzare, consultare e gestire i nostri conti di pagamento attraverso l'app BancoPosta utilizzando i servizi di Open Banking di poste italiane. Iniziamo aprendo l'app BancoPosta. Clicchiamo su accedi e inseriamo il codice poste ID. Scorriamo in basso sulla home page e clicchiamo su BancoPosta Open. Se siamo titolari di conti di pagamento, conto corrente o carta presso una banca o prestatore di servizi di pagamento diverso da BancoPosta sarà possibile aggiungerli in app cliccando su aggiungi e selezionando la banca o prestatore di servizi di pagamento presso cui deteniamo il conto tra quelli disponibili. Effettuata la selezione clicchiamo su collega. A questo punto saremo indirezzati sulla pagina web della banca o del prestatore di servizi di pagamento per effettuare il collegamento del conto o della carta. Cliccando su continua dovremo inserire le credenziali di autenticazione della banca o prestatore dei servizi di pagamento per confermare ed autorizzare il collegamento. Dopo la corretta autenticazione e l'autorizzazione potremo tornare in app BancoPosta e verificare così il collegamento. Grazie ai servizi di Open Banking di Poste Italiane è possibile gestire i nostri conti di pagamento, visualizzare saldo e lista movimenti ed anche avviare i bonifici in un unicap.